È un progetto che si articola in un ciclo di otto lezioni che sono rivolte agli studenti delle scuole medie e superiori e vertono su argomenti legati alla sessualità. Quanto è importante partire proprio dalle scuole, considerando che probabilmente molti presidi, la famiglia e la scuola, forse non sono ancora del tutto preparati ad affrontare questi argomenti? Allora, quello che dice lei è giustissimo perché in famiglia non si trova spazio e adito per affrontare certi argomenti che sono tuttora ostici. Nelle scuole invece mancano proprio i programmi didattici di sostegno perché purtroppo il messaggio è stato distorto, deragliato sulla questione gender quando in realtà la cosa fondamentale è fare capire ai ragazzi come gestire la propria individualità e la propria sessualità. Ed è importante renderli partecipi e coscienti di che cosa significa essere adolescenti, di che cosa significa approcciarsi da un punto di vista individuale a se stessi che cambiano, ma anche nella società, quindi rapportarsi nella famiglia, nella scuola, con gli amici e riuscire ad avere la consapevolezza di ciò che stanno diventando. In assenza di questi presidi, come dicevamo, scuola, famiglia, molto spesso i giovani si rivolgono a internet. Frequentare siti porno per magari apprendere anche una semplice tecnica di approccio tra i due sessi o anche tra sessi diversi può essere davvero dannoso? E purtroppo è così. Ci sono dati sia a livello nazionale che europeo che dimostrano come l'interesse dei ragazzi per i siti porno, per i film porno purtroppo è in crescita. È diventato uno strumento di apprendimento, mentre come disse un famoso attore, un famoso pornostar che affermò che giustamente i film porno dovrebbero essere un metodo di intrattenimento per gli adulti, non di certo un metodo di apprendimento per gli adolescenti. Questo ci porta a realizzare come i ragazzi provano a cercare su internet e ovviamente navigano a caso sul web imbattendosi sempre più spesso in filmati porno che passano un'idea distorta di ciò che è un rapporto sentimentale, di ciò che è un rapporto sessuale perché lasciano il messaggio che una performance sessuale sia una specie di ginnastica orizzontale acrobatica in cui il maschio appare come super macio e la donna come un oggetto dedicato al suo soddisfacimento che perde la sua umanità e viene trasfigurata nella sua identità. Il dato che ho rilevato, che poi mi ha spinto a portare a compimento questa scelta, era l'età precoce non solo dei rapporti sessuali, ma anche e soprattutto dell'insorgenza di gravidanze, gravidanze indesiderate, gravidanze che creavano gravi traumi, fratture in famiglia, con episodi persino di violenza, episodi spiacevoli in cui i genitori sembrava cascassero dal pero, come se non si rendessero conto che i propri figli adolescenti si approcciavano alla sessualità perché adolescenza significa scoprire la propria sessualità.